E non da poco passate le 13 di ieri quando un uomo 57enne pluripregiudicato del capoluogo ha prima inseguito e poi colpito ripetutamente con un martello l'ex compagna davanti agli occhi attoniti di centinaia di persone che nell'ora di punta attraversavano la centralissima via Zigarelli ad Avellino. Poi, bloccato dall'ex calciatore Raffaele Biancolino, si è dato alla macchia. La donna, una 37enne di origini polacche, è stata trasportata ad urgenza al Moscati e ricoverata in codice russo. La scena è stata orribile, hanno raccontato i tanti testimoni presenti sul posto. Le squadre volanti e mobile della polizia di Avellino hanno subito avviato la caccia all'uomo, ascoltando i tanti passanti. L'uomo è stato identificato e braccato nel primo pomeriggio di ieri dagli agenti nei pressi e lo stadio Parteno Lombardi. Il 57enne, ancora in preda al Raptus, nervosi, ha dapprima tentato la fuga e poi si è reso alla polizia. Alle 17 l'epilogo è la traduzione in questura dove il pregiudicato è stato denunciato a piede libero per lesione e minacce. La donna, questa mattina, è stata trasferita nel reparto di neurologia dell'ospedale Moscati di Avellino e viene monitorata dall'equipo di neurochirurghi del nosocomio avellilise. Le sue condizioni sono stabili, ma preoccupare maggiormente il trauma cranico che la giovane ha riportato. La prognosi potrebbe essere di 20 giorni. La 37enne si era già presentata un mese fa al pronto soccorso con echimosi al volto, non denunciando però nessuna aggressione. In queste ore, Questura e Procura stanno indagando sulla dinamica dei fatti e non escluso che ci possano essere importanti sviluppi nelle prossime ore.